Buon pomeriggio ragazzi, spero tutti quanti voi che siate super ultra elettrizzati per questa operazione chimera anno 3 stagione 1 Ieri hanno rilasciato delle informazioni molto molto succulente che andremo a discuterne insieme A me più che altro interessa sapere il vostro parere ragazzi Questa cosa qui magari la saprete già tutta quanta perché è uscita ieri Però come vedete mi sono tagliato i capelli e avevo soltanto tempo adesso di portarvi questo video Quindi banda alle ciance ragazzi perché c'è un punto di domanda enorme che mi ha lasciato molto molto perplesso Allora come possiamo leggere qua l'operazione chimera è alle porte E il nuovo anno appunto comincerà con l'operazione chimera e con l'introduzione di una nuova unità speciale Ebbene sì ragazzi, gli attacchi biologici e chimici rappresentano una minaccia crescente per gli operatori SIX ha perciò dato vita all'unità di difesa chimica, biologica, radioattiva e nucleare La CVRN Questi due nuovi operatori saranno disponibili sia nel multigiocatore E saranno anche utilizzabili nell'evento Outbreak insieme ad altri operatori classici L'evento Outbreak ragazzi l'avevano già fatto conoscere il 25 gennaio Ve ne avevo già parlato Non preoccupatevi perché se non sapete di cosa stia parlando Continuate a guardare il video perché poi andremo anche a parlare di questo evento Outbreak Perché è il punto enorme di domanda che vi stavo dicendo prima Allora quali saranno questi due operatori? Uno degli operatori viene dalla Francia e usa il suo drone per difendere i perimetri di quarantena Quindi tanta 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 roba Magari con Toucher si riuscirà a disattivare Magari col Twitch o che cavolo ne so io ragazzi Comunque questo qua difende i perimetri di quarantena L'altro operatore si è trasferito in Russia per portare avanti gli studi Ha scoperto quanto può essere vasto il numero di applicazioni delle nanomacchine autodissolventi Quindi prepariamoci a dei gadget Rottura di scatole impressionanti ragazzi Veramente una cosa micidiale All'interno dell'operazione Chimera avrà luogo l'evento speciale Outbreak Che adesso vi farò vedere qua Indossa la tuta protettiva e controlla l'equipaggiamento Perché Rainbow Six Siege dovrà affrontare l'epidemia Che ha messo in ginocchio la cittadina di Tutor Consequence in New Mexico Scegli i tre migliori componenti per neutralizzare la minaccia Perché ragazzi questa qui sarà una coop da tre giocatori e basta Quindi o si scelgono gli operatori giusti o altrimenti sarà molto molto difficile completare questo evento qui Questo evento coop a tempo limitato è gratuito per tutti coloro che possiedono una copia di Rainbow Six Siege Per saperne di più vai su Outbreak sulle informazioni che avevano dato il 25 gennaio E noi ci andiamo immediatamente Ed eccoci qua ragazzi Data 25 gennaio 2018 Qui hanno parlato di come cambieranno tutte quante le edizioni di Rainbow Per chi deve comprare ancora il gioco Comunque noi andiamo qui ragazzi Pacchetti Outbreak Un'infestazione di origine ignota sta minacciando la piccola cittadina in New Mexico Il pericolo è talmente grave che le autorità hanno deciso di mettere in quarantena l'intera città Intrappolando al suo interno civili e soldati Quindi se veramente dobbiamo combattere in un'intera città Deve essere veramente grande, grossa, gigantesca questa operazione Outbreak è un evento di quattro settimane In cui tutti i possessori di Rainbow potranno unirsi insieme a due amici Quindi appunto ragazzi co-op da tre In questa misteriosa minaccia L'evento è gratuito, lo ripeto per l'ennesima volta Se qualcuno di voi non l'ha ancora capito Nel corso delle quattro settimane di durata dell'evento Sarà disponibile un'esclusiva collezione di oggetti estetici Anticontaminazione e all'avanguardia L'attrezzatura sarà contenuta nei pacchetti Outbreak Prestate la massima attenzione non negli Alpha Pack Quelli sono soltanto per il multigiocatore Per avere le skin e quant'altro speciale per Outbreak Ci sono i pacchetti Outbreak Saranno poi soltanto oggetti estetici Come tuttora gli Alpha Pack La collezione Outbreak è composta da 50 articoli Unici ed è priva di duplicati Questo significa che acquistando 50 pacchetti Outbreak Si ha la garanzia di ottenere l'intera collezione Inclusa l'uniforme Elite I pacchetti conterranno skin army universali Skin army uniche Copricapi, uniformi, ciondoli E l'esclusiva collezione Outbreak Pertinente all'uniforme Elite di questa stagione I pacchetti conterranno una variante speciale dell'uniforme Elite Cioè ragazzi veramente una cosa eccezionale Però vi ripeto sempre Questa è una Un evento a tempo limitato E adesso la nota dolente I pacchetti Outbreak Saranno acquistabili esclusivamente pagando 300 crediti R6 ciascuno Quindi ragazzi non stiamo parlando dei punti fama gratis Che uno può guadagnare al finire di una partita in multigiocatore Ma saranno proprio soldi veri che tu investi per acquistare i crediti R6 Per poi comprarti questi pacchetti Outbreak Facendo i calcoli 300 crediti per i 50 pacchetti Sono 15.000 crediti R6 Come ben sapete io comprando tutti quanti gli Elite e quant'altro Vi ho fatto vedere quanto costano questi crediti R6 Andiamo a pagare 100 euro O forse di più Per avere tutto quanto devi investire un bel po' di soldi Tutti i giocatori che effettueranno l'accesso durante l'evento Outbreak Riceveranno immediatamente 4 pacchetti I nuovi giocatori che acquisteranno l'Advanced Edition nel corso dell'evento Outbreak Riceveranno i 10 pacchetti inclusi nell'Advanced Edition Più altri 4 per aver effettuato l'accesso nel corso dell'evento Quindi ragazzi chi non ha ancora comprato Rainbow E acquista una di queste versioni Advanced Edition Riceve 14 pacchetti Quindi al posto che 50 Uno ne deve comprare 46 Per quelli come me Quindi ugualmente ci devi cacciare 100 euro ragazzi Per avere tutto quanto Cioè io magari posso investirlo Così vi faccio vedere quello che c'è Perché io faccio video ragazzi Ma per uno di voi che magari non fa video O è veramente matto di Rainbow O non so se ne vale tanto la pena Perché vi ripeto questo è un evento a tempo limitato La collezione Outbreak conterrà oggetti estetici per i seguenti operatori I due operatori dell'operazione Chimera Poi c'è Smoke Che è quello che utilizzo io quindi tanta roba Ying, Buck, Kapkan, Ibana, Sofia O Zofia come volete chiamarla Fuse, Ash, Doc, Termite, Tachanka, Glaz Qui ci sono un paio di operatori che io utilizzo parecchio E quindi io molto probabilmente investirò tutti questi soldi Ragazzi così vi faccio vedere un po' cosa si riesce a trovare Il mio punto di domanda enorme È che questo qui è un evento ragazzi a tempo limitato Di quattro settimane E dopo di quelle che cavolo succede Questi pacchetti Cioè se io spendo 100 euro per avere tutto Dopo queste quattro settimane Che cavolo succede Questi pacchetti qua Ci saranno, non ci saranno Le skin speciali Che si andranno a utilizzare in questa operazione Che io magari compro, pago Per avere, ricevo Poi che cavolo di fine faranno Qualcuno di voi ha più informato di me ragazzi Mi riesce a rispondere a questa domanda Cioè dopo queste quattro settimane Faranno un'altra operazione Le cose di Outbreak funzioneranno anche nella nuova operazione Cioè io investo 100 euro per avere tutto Per quattro settimane e poi basta Poi mi sparisce tutto quanto Non ho più niente Quindi ragazzi questo È veramente il mio punto di domanda gigantesco Spero qualcuno di voi mi riesca a rispondere Ditemi un po' voi cosa ne pensate di questa operazione Se siete super ultra mega Emozionati E entusiasmati Io direi che sono abbastanza lanciato ragazzi Per questa nuova operazione Speriamo non sia Una schifezza Ma speriamo sia una cosa Tanta tanta roba Ma non penso assolutamente Che deluderà le nostre aspettative Anzi ci saranno delle cose Che non ci aspetteremo assolutamente Quindi niente Il video raga si conclude qua Ditemi tutti quanti i vostri pareri Sotto giù nei commenti Ricordatevi che io pubblico i video alle 3 E alcune volte anche alle 5 Mi diventa un po' difficile mettere il secondo video Però guardate sempre Perché le feed dei video YouTube non le manda Io uccido qualcuno Quindi se in caso seguitemi su Instagram Perché là vi faccio le Instagram story Così non vi perdete nessun mio video Perché ragazzi Il diamante è alle porte Quindi Un saluto Un abbraccione qua ragazzi da Beastard E ci vediamo al prossimo video